E qui con noi in studio abbiamo una parte della squadra di Sorridi con Pietro Ollus, delle bellissime ma anche molto brave ragazze, molto brave perché si impegnano nella solidarietà. Lorenza fai un po' da portavoce, intanto chi c'è qui? La parte della squadra, chi sono le consigliere? Sì abbiamo le consigliere, quindi Virginia, Gaia, Marta e Chiara e poi abbiamo la detta stampa che è Claudia. E quindi una parte di questa squadra di Sorridi con Pietro, che cosa fa Sorridi con Pietro? Allora Sorridi con Pietro è una onlus che si occupa di cure palliative in età pediatrica, quindi ci occupiamo di evitare inutili ospedalizzazioni a dei piccoli pazienti che sono affetti da malattie croniche e o degenerative e gli permettiamo di essere curati a casa tramite un'equipe di professionisti, quali psicologi, fisioterapisti, infermieri, medici e questo dà un sostegno sia terapico, se si può dire terapico? Certo, assolutamente. Sia psicologico, sia al paziente che alla famiglia. Quindi è una missione sicuramente molto molto importante, è necessario anche raccogliere fondi per sostenere tutto questo e voi avete pensato, non è il primo anno, avete pensato a una bella iniziativa sul porto turistico di Porto Maurizio, è vero? Il primo giugno che succede? Esatto, il primo giugno abbiamo la quinta eduzione di Welcome to Saint-Tropez, che è un evento che va a finanziare appunto questo progetto, diamo qualità alla vita di terapia palliativa pediatrica, ma va anche a sostegno di un altro nuovo progetto che abbiamo intrapreso quest'anno, che si chiama Parco Sole di Notte. È il primo centro di terapia ricreativa in Italia, che verrà creato a Pordenone, in provincia di Pordenone, in cui appunto offriremo un'assistenza sia ai piccoli pazienti che alle famiglie e sarà dotato di tutti i comfort. Saranno ospitati 56 bambini con la famiglia e siamo molto fieri di far parte di questo progetto insieme alla Fondazione Maruzza di Roma. E allora, chi ci ascolta, come può aiutare Sorridi con Pietro? Il primo giugno che si fa? Come funziona? Il primo giugno è un evento che non è solo per i giovani ragazzi, ma è per tutti. Appunto noi lo chiamiamo Music Festival, in quanto ci saranno sia degli spettacoli, ci sarà appunto un DJ set anche, però uno può venire, inizia dalle 22 fino a tardanotte, andiamo avanti. Ci sarà una zona per il ballo, una zona dove la gente può parlare, una zona dove ci si radunano le persone un pochettino più adulte, perché riconosciamo che mettere tutti insieme è un po' più complicato. Quest'anno abbiamo anche creato una prevendita, c'è un acquisto del biglietto anticipato per evitare la coda alle persone che non intendono farla. Siamo molto contenti del successo che ha avuto, infatti le abbiamo quasi terminate. E niente, ci vediamo il primo di giugno. Ci vediamo il primo di giugno, direi, per aiutare Sorridi con Pietro Onlus in queste tante missioni importanti, soprattutto perché sono per i più piccoli.